E' facile, avere tre giorni per riprendere, quando andiamo fuori di setta, la cucina perfetta, non parla di setta. Non è facile, avere tre giorni per riprendere, quando andiamo fuori di setta, la cucina perfetta, non parla di setta. Non è facile, avere tre giorni per riprendere, quando andiamo fuori di setta, la cucina perfetta, non parla di setta.